Il comunicato ufficiale del Policlinico Riuniti di Foggia e l'esito dell'incontro del sindaco Giuseppe Pitta e del consigliere regionale Antonio Tutolo con la direzione del Policlinico al quale l'ospedale Lassaria di Lucera è annesso riguardante la chiusura temporanea del pronto soccorso di Lucera non hanno soddisfatto né convinto molti cittadini. A prescindere dal voler preservare la struttura ospedaliera da rischio contagi e dal non ritenere i locali del pronto soccorso idonei ad ospitare pazienti covid non, per la popolazione lucerina e per quella dei vicini Monti Dauni esso resta un punto di riferimento sanitario importante per le urgenze che in questo delicato momento di pandemia viene meno generando preoccupazione. I cittadini hanno così deciso di muoversi creando un gruppo di coordinamento Facebook che si chiama Io non ci sto il pronto soccorso non si chiude e che conta più di 1200 iscritti. Tra le varie azioni c'è l'iniziativa di affiggere striscioni all'ingresso dell'ospedale, contattare le redazioni di programmi televisivi di denuncia e condividere pareri e proposte per agire affinché si trovi una soluzione diversa dalla più drastica chiusura che secondo la direzione del Policlinico ci sarà fino a quando non finirà l'emergenza covid. Intanto è stato dato avvio anche ad una petizione online, mentre gli esponenti politici locali stanno mettendo a punto azioni per muoversi a favore della riapertura del pronto soccorso.